Musica Ben ritrovati a questa rubrica Indagini e campagne di Essere Animali che stiamo portando avanti grazie alla collaborazione di questa importantissima associazione e diamo il benvenuto a Claudio Pomo che è responsabile per lo sviluppo di Essere Animali Come sempre benvenuto Grazie Allora oggi parliamo di un'importantissima campagna a livello europeo si chiama End the Cage Age quindi fine praticamente delle gabbie stop alle gabbie un'iniziativa che è nata a livello europeo e che vede anche la vostra associazione come partner in Italia però io prima vorrei partire da alcuni dati perché gli animali che sono ancora allevati in gabbia nell'Unione Europea sono qualcosa come 300 milioni e ci sono anche dei dati che riguardano in Italia non stiamo parlando di animali che sono espressamente allevati in gabbia ma giusto per dare il numero di quello che è in Lombardia il numero appunto degli animali che sono allevati e nelle fattorie lombarde ci sono più di 36 milioni di animali questo emerge da un'analisi della Coldiretti regionale in Lombardia si contano un milione e mezzo di mucche 4 milioni di maiali circa 27 milioni tra polli, galline, tacchini, faraone e ocche pecore e capre sono più di 200 mila i cavalli, gli asini e i muli in regione superano complessivamente i 50 mila esemplari mentre i conigli sono più di 1,3 milioni come abbiamo detto non tutti vivono in gabbia ma la maggior parte vivono in allevamenti intensivi perché la gabbia è proprio una prerogativa degli allevamenti intensivi l'obiettivo di questa importantissima campagna? L'obiettivo è come dice il nome farla finita con l'epoca delle gabbie l'era delle gabbie che noi magari diamo per scontato che esistano gli allevamenti intensivi in realtà è una invenzione recente dell'umanità solamente dal dopoguerra in poi poi sono nati i veri grandi colossi degli allevamenti intensivi e poi sono stati sviluppati appunto metodi sempre più perfezionati per produrre con meno costo, meno spazio, più animali e le gabbie sono stati funzionali per tutto questo anche perché se vediamo un allevamento di galline ovaiole abbiamo gabbie che adesso arrivano a quattro piani prima della legge del 2012 arrivavano fino a sette piani e possiamo stabulare quindi molti più animali in meno spazio questa è l'epoca in cui abbiamo massimizzato come umanità lo sfruttamento degli animali abbiamo acuito la loro sofferenza abbiamo creato un mondo orribile dove gli animali non possono muoversi quasi per niente dove non possono sviluppare nessuna dei loro bisogni etologici dove non possono soddisfare appunto le loro necessità se non appunto mangiare e riprodursi cioè diciamo crescere e ingrassare oppure produrre uova, latte eccetera quindi diciamo è un'era che vogliamo vedere finita ovviamente la fine delle gabbie non porta alla fine dell'allevamento intensivo però è un passaggio molto importante e per questo molte associazioni in tutta Europa si sono unite qualche anno fa per un'iniziativa dei cittadini europei che ha raggiunto, ha superato il milione di firme e grazie a questo strumento importantissimo messo a disposizione dell'Unione Europea ha costretto la Commissione a discutere questa proposta ha portato anche un grande risultato perché la Commissione Europea ha accettato la proposta dei cittadini ha votato favorevolmente ha quasi, se non sbaglio, la quasi unanimità della Commissione ha votato favorevolmente per la fine delle gabbie in Europa però cosa succede? Che non è finita lì, sarebbe stato bello anche perché i tempi che avevano dato erano abbastanza ravvicinati per questa transizione ma purtroppo, così sanno le cose, ogni proposta della Commissione poi deve fare altri step, altri passaggi all'interno di tutto l'organismo dell'Unione Europea e quindi il problema è che nei prossimi passaggi che ancora dovranno arrivare potrebbe essere diluita, potrebbero esserci delle specie che vengono tolte da questo obbligo potrebbe esserci una dilattazione dei tempi sappiamo che allevatori chiedono dei tempi spropositati alcune lobby di allevatori chiedono 30 anni per la dismissione delle gabbie sono tempi assurdi ovviamente ne chiedono tanti magari per poi fare una trattativa e arrivare a un'altra tempistica però diciamo, dobbiamo combattere ancora affinché questa proposta arrivi intatta e con brevi termini per questo motivo è nata una nuova coalizione non è proprio nuova, però diciamo la chiamiamo la nuova coalizione italiana di End the Cage Age in cui un numero importante di associazioni non solo per i diritti animali ma ci sono anche associazioni per l'ambiente e per i consumatori che sono unite per fare pressione sul governo e i ministeri competenti affinché supportino questa iniziativa dei cittadini europei e supportino alla fine la richiesta che viene dai consumatori dei cittadini e in ambito europeo non facciano veto, non frenino ma siano anzi promotori di questo cambiamento e per questo motivo stiamo continuando con tante attività però adesso vediamo insieme un video che è stato proprio un'indagine che è stata girata in un allevamento di quagli e così possiamo capire bene cosa significa vivere in gabbia Sì, abbiamo realizzato due indagini che vedremo oggi proprio specificatamente nel 2022 per questa campagna quindi su due specie allevate esclusivamente in gabbia altre associazioni hanno diffuso altre indagini diciamo come coalizione ne abbiamo diffuse ben quattro su tante specie per far vedere le gravi problematiche e portarle poi all'attenzione dei ministri competenti per far vedere che è necessario andare oltre Quindi adesso noi vediamo l'indagine negli allevamenti di quagli e poi successivamente quella negli allevamenti di conigli Alla prossima 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 Alla prossima